Misteriosi cerchi sono comparsi in un grande campo di grano, in località Bagnara, nella zona tra Veroli e Monte San Giovanni Campano, vicino la famosa abbazia di Casamari, in provincia di Frosinone. A notarli sono stati questa mattina alcuni automobilisti. Con il passare del tempo, e delle voci, che ben presto sono rimbalzate in ogni dove della ciociaria, numerosi sono stati i curiosi, che hanno raggiunto il luogo del mistero. Tra scettici e amanti del mistero, in tanti dunque ad ammirare i cerchi, tutti collegati tra di loro. E tutti si sono posti la stessa domanda e in mezzo a noi sono atterrati gli UFO? Molti armati di macchina fotografica hanno voluto immortallare il misterioso fenomeno. Sono spuntate anche le prime testimonianze e nuove foto. I disegni sono stati scoperti sabato mattina da alcuni automobilisti. Per tutta la giornata di sabato 9 luglio 2011 e ancora ieri in tanti hanno preso d'assalto il luogo del mistero, nel campo di proprietà dei monaci dell'abbazia di Casamari. Molti anche da paesi lontani. Ma questa volta i cerchi sono arrivati alla Bagnara. Come detto, numerosi i curiosi, molti li abbiamo visti entrare direttamente all'interno dei disegni, alcuni hanno raggiunto i punti più alti per avere una panoramica diversa. Recandoci sul posto abbiamo incontrato persone che ci hanno raccontato di aver visto un forte bagliore di luce nella notte tra venerdì 8 luglio e sabato 9 luglio, intorno alle 2.30. sono stato svegliato dall'incessante abbaiare di numerosi cani. Mi sono affacciato fuori dal balcone e ho visto una forte luce provenire proprio da quest'area. E' durata pochissimo ma era davvero luminosa. Anche altri cittadini avrebbero visto la stessa luce. Invece proprio l'altra sera alcuni ragazzi, che si trovavano a poca distanza dai cerchi, hanno notato all'improvviso nel cielo, tre cerchi, che si avvicinavano sempre più. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!